L'amministratore delegato e l'intero management di Unieuro, la catena commerciale per la vendita di elettrodomestici e apparecchiature elettroniche, in Puglia, a Ginosa Marina, per la convention annuale di soci e venditori. Un'azienda in forte espansione su un mercato specifico solo sfiorato dalla crisi. 1,3 miliardi di fatturato, 57 milioni di utile attraverso 400 punti vendita in Italia. Unieuro punta in alto, giungere alla quotazione in borsa, diventare il leader del settore e raddoppiare i punti vendita nel medio e lungo periodo, attraverso la fidelizzazione della clientela con personale di vendita qualificato da specifici corsi ed opportuni interventi di marketing e comunicazione. Vogliamo diventare il punto di riferimento delle famiglie italiane, ha detto l'amministratore delegato Giancarlo Nicosanti. Abbiamo riunito per la prima volta i nostri 263 affiliati, noi siamo presenti in Italia con 180 negozi a conduzione diretta e abbiamo 263 affiliati che lavorano sul territorio italiano con insegna Unieuro o Unieuro City. La Puglia è una regione per noi molto importante, abbiamo diversi punti vendita diretti, abbiamo tanti affiliati, credo che il lavoro che dovremo fare nei prossimi mesi, per non dire nei prossimi anni, sarà quello di intensificare sia il numero di punti vendita diretti che il numero degli affiliati.